Ben trovati da Nico Schiodetto, previsione per la giornata di lunedì quando una vasta zona di bassa pressione ad ovest dell'Italia veicolerà impulsi instabili verso il centro nord. Andiamo a vedere nel dettaglio le nuvole compatte sulla Toscana e sulle regioni settentrionali, più sole a sud e in sintesi la mappa delle precipitazioni che ci mostrano queste piogge a tratti anche copiose che via via interesseranno tutto il nord. Nel dettaglio la mappa dell'Italia ci mostra questo rischio di nubi fragili anche al nord ovest, specie sullo Spezzino e poi Toscana settentrionale, piogge in arrivo specie nella seconda parte del giorno anche sulle Venezie, copiose sulla fascia prealpina, restanti zone del centro sud tra sole e nubi sparse, temperature estiva al sud per i venti tesi di Scirocco. Tutti i dettagli precisi scaricando l'app di Trabi Meteo o articoli sul nostro sito web.